Ciao ragazzi, allora anche il posizionamento del nostro giardino può influire come variante molto sull'efficacia del nostro cane da guardia. Vabbè, intanto io, una cosa che vorrei chiarire, è ovvio che voi dovete adottare un cucciolo e un cucciolone che abbia proprio come proprietà nella sua genetica quella di vedere nell'essere umano un pericolo per la sua sopravvivenza, altrimenti non è che voi se prenderete un cucciolo, un cucciolone che vede un'opportunità nell'estraneo come magari datore di cibo ulteriore, un'opportunità per migliorare la sua sopravvivenza. Poi, se cambiate casa e avete un posizionamento diverso del giardino, altre caratteristiche che io vi ho detto in questi giorni, troverete grandi miglioramenti. Ma invece, se voi avete un cane che ha questa caratteristica nel suo DNA, ma voi avete trascurato tutta una serie di accorgimenti importanti, è ovvio che per questo principio che vi ho già spiegato, che è la mortificazione istintiva, voi potreste vedere il carattere del cane a sgonfiarsi gradatamente. Così come potreste dover affrontare dei ritardi incredibili sul lavoro che lui farà nella vostra proprietà. Cosa intendo io come posizionamento del giardino? Allora, in questi vent'anni ho dato veramente tanti cani nelle case italiane e anche case fuori dall'Italia, perché ho clienti in Francia, in Spagna, in Inghilterra, ne ho anche altri stati. Ogni volta una delle prime cose che io, non è che mi preoccupo, ma tengo molto in considerazione per quello che sarà l'evoluzione del carattere del cucciolo, del cucciolone, nonostante a casa mia faccia già la guardia, perché io quando garantisco dei cuccioli o cuccioloni la guardia, non è che li garantisco sulla mia immaginazione, li garantisco su quello che possono essere le mie semplici aspettative o le mie semplici previsioni. Anche se nel piccolo io devo aver visto il cane a far la guardia. Per cane intendo il cucciolo. Ed è il motivo, non solo l'unico, ma anche uno dei motivi che oggi preferisco introdurre nelle proprietà sempre cuccioli che abbiano non meno di quattro mesi, ma meglio se cinque, sei, sette, otto mesi, perché ancora a questa età sono degli infanti. Voi pensate che un cucciolo, quando un cucciolone ha un anno, corrisponde ad un bambino di sette, otto anni. Quindi la differenza per chi li adotta, si tratta poi appunto di fare questa considerazione, la differenza tra adottare un bambino di sei anni e un bambino di due anni. Uno riesce ancora, il timore è sempre quello che non si possa più affezionare, ma io adotto cani di quattro o cinque anni che si affezionano tantissimo. Ho appena riadottato un cucciolone che viene dei pascoli. Poi vi farò vedere nei dettagli. Ieri non sapeva più come dimostrarmi il suo attaccamento, il suo affetto e ce l'ho da pochi giorni. E questo significa semplicemente saper lavorare sulle condizioni ambientali, fargli capire a livello di gratificazione che questo, dove lui è arrivato, è veramente un luogo idoneo alla sua sopravvivenza. Quello che il cane fa quando vive allo stato randaggio. Si cerca delle parti nel territorio, si cerca delle location dove diventi ideale e facile il suo sistema di vita, il suo sistema di sopravvivenza e siano le sue opportunità di riproduzione facilmente identificabili. Questo per dirvi che non è che sono solo degli accorgimenti come il posizionamento del giardino che possono cambiare il risultato finale del cane. Questo senza dubbi. Ma vi posso garantire che ci sono molte differenze fra avere ad esempio una casa che ha la strada che passa a livello del vostro cancello piuttosto che avere una strada che passa alcuni metri più alta rispetto a quel livello oppure avere una strada che passa a parecchi metri più basso rispetto a dove si affacerà il cane e iniziare a fare la guardia. Questo può cambiare tantissimo il risultato. Ricordo quando in centro Italia dovessi dare una coppia di cani che erano ottimi guardiani già da me ed erano già di cuccioloni e questa casa era posizionata con un giardino che era tutto in salita e il cane doveva ogni volta fare una salita almeno di 150-200 metri per arrivare al portone e fare la sua deterrenza. Quindi aveva la riserva di cibo dove risiedeva la famiglia, dove lui dormiva durante la notte in basso e poi ogni volta doveva fare questa salita. Allora servono accorgimenti, bisogna agire su quelle che io chiamo le condizioni ambientali perché il posizionamento del giardino è senza dubbi una cosa che può influire di molto. Domani vedremo anche l'ubicazione della casa, se fuori ci sono, anzi dopo domani vi parlerò come può cambiare per un cucciolone in crescita, se ci sono degli stimoli naturali all'esterno della proprietà dove abbiamo inserito il cane o piuttosto non esistono questi stimoli. Vi dico che il posizionamento del giardino è un po' come il vostro bancone di lavoro, se voi dovete lavorare e fare dei lavori, se avete un bancone che è solamente alto 50 centimetri dopo un po' sarete molto affaticati perché dovrete sempre chinarvi, se ne aveste uno altro 180 anche perché dovreste sempre lavorare con le braccia alzate, vi stanchereste facilmente, se invece esiste un'altezza standard, giusta, studiata, affinché voi possiate lavorare parecchie ore senza stancarvi così tanto. Ecco, il posizionamento del giardino, ma io adesso vi ho parlato dei dislivelli, ma possono essere tante altre caratteristiche, ha una sua importanza non da poco, se il giardino è davanti a casa, se è dietro casa, se la strada dove solitamente arrivano gli estrani è posizionata su un fianco, insomma tante cose possono cambiare veramente e queste vanno sempre tenute tutte in considerazione laggiù dove si vuole, sia ottenere un ottimale sviluppo del carattere che il cucciolo o cucciolone ha già nel suo DNA, sia che si vogliano mantenere nel tempo le prestazioni del cane da guardia. E quando io devo fare degli esempi pratici su queste cose prendo sempre di riferimento l'alberello giovane che noi piantiamo nel nostro giardino. È sicuramente un albero da frutti, siamo sicuri perché quando ce lo siamo acquistato era piccolo ma aveva già due frutti attaccati, noi lo prendiamo e lo trapiantiamo nel nostro giardino, dovrebbe diventare un grande albero, dovrebbe poi offrire quintali di frutta, ma influirà molto su come noi lo seguiremo nella fase di crescita. È ovvio che quando si sarà radicato bene potremo anche affrontare un anno come questo dove c'è stata molta siccità e lui sopravviverà lo stesso. Ma se invece la piantina fosse stata piantata solamente questa primavera ebbene necessitava il vostro intervento, il vostro aiuto, la vostra assistenza in certi casi di difficoltà, altrimenti a quest'ora sarebbe già morto. Ecco, il carattere del cane è la stessa cosa, il cane deve già averlo nel DNA, bisogna che l'allevatore vi garantisca che il cane dimostra già nel suo piccolo delle prestazioni evidenti, ma vuol dire tantissimo, cambiano tantissimo poi i risultati finali in quanto noi sapremo poi il carattere, lo stato embrionale che ha un cucciolo, un cucciolone, che magari voi lo vedete grande ma ancora molto giovane come ragionamento, ha come potrà poi diventare il cane quando avrà tre anni e mezzo, quattro, quattro anni e mezzo che è un po' in base da soggetto a soggetto il momento dove si vede a ultimare la sua maturità. Bene, vi ringrazio tanto anche oggi per avermi ascoltato e vi auguro a tutti buona giornata. A presto!